Sono specializzato in un tipo di sicurezza molto preciso. Stiamo parlando di sogni. Entrano nel subcontro. Ci stanno venendo a prenderla. Rubano i segreti più reconditi. Dobbiamo muoverci. I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro. Con Leonardo DiCaprio. Non siamo preparati per questo tipo di violenza! Un capolavoro di Christopher Nolan. Inception. Giovedì alle 21. Sul 20. Giovedì.